Buio in sala, silenzio fra il pubblico, un fascio di luce colpisce lo schermo e subito inizia, appare una storia. Il cinema è in qualche modo autoritario, nel senso che il regista decide che cosa far vedere in quel quadratino. Io ho con Le Location una storia d'amore. Non cerco i luoghi in cui ambientare delle scene già scritte, ma viceversa ambiento delle scene in dei luoghi che mi piacciono. C'è un lavoro dietro la scelta delle Location e della realizzazione di un film. Il cinema spesso ha usato questi luoghi per ambientarvi delle storie affascinanti e misteriose. In ogni caso delle storie che ci mettessero in contatto con qualcosa di più grande di noi.